Giocato allo sospeso, l'iniziativa è arrivata alla terza edizione e riscuotra sempre un grande successo tra i pavesi. Sì, un'ennesima dimostrazione da parte della città per andare incontro naturalmente alle famiglie, in questo caso i bambini diciamo un po' meno fortunati. Quindi un'opportunità per il tramite con questa collaborazione importante con gli oratori per andare a distribuire a queste famiglie un momento di felicità che i bambini hanno bisogno, ma ce ne hanno bisogno veramente tutti, compreso naturalmente noi. È chiaro anche che auguro a tutti un bellissimo Natale. In che modo verranno distribuiti i giocattoli e con quali prefero verranno assinati alle famiglie? Anche quest'anno ringraziamo il Comune per questa iniziativa che raggiunge le varie associazioni di chi si impegna per aiutare le famiglie in difficoltà. I giocattoli verranno distribuiti presso la comunità di Sant'Egidio, l'Agal, la Lega del Bene, il quarto piano dell'ospedale per quanto riguarda la pediatria e poi anche Casa Emmaus. Queste realtà da sempre ringraziano il Comune per questa iniziativa proprio perché danno un'opportunità grande a tutte queste persone di poter vivere un Natale anche loro bello, felice, un Natale che sia veramente segno di una rinascita per tutti. Quindi ringraziamo veramente per questa iniziativa e per la generosità con cui sempre la cittadinanza risponde anche quest'anno. Grazie, anche auguro a tutti voi un buon Natale. Oltre ad aiutare i bambini, questo è stato anche un piccolo ma significativo aiuto verso il commercio pavese. Assolutamente sì, questa iniziativa è nata nel 2020 quindi in un momento veramente triste e difficoltoso per il commercio pavese e ovviamente coniuga la solidarietà, il fare bene per i bambini ma anche è un aiuto concreto per i negozi di vicinato. Si svolge nei nostri negozi di vicinato quindi cartolerie, giocattolerie, edicole, i tanti, direi pressoché tutti della città che hanno aderito e che ogni anno aspettano questo momento e sono entusiasti di partecipare. A loro appunto è rivolta anche una parte di questo progetto e devo dire che sono contenti e si ricordano ogni anno anche di ringraziare i tanti cittadini che vanno nei loro negozi e che sono molto molto generosi. Quindi noi siamo contenti perché appunto siamo riusciti a coniugare solidarietà, il fare del bene ma anche un aiuto concreto appunto per il nostro tessuto commerciale. Il mio augurio va ovviamente a tutti i bambini che riceveranno questi bei doni e a tutti i commercianti della città di Pavia.